No però bea sto casino non può esistere Ma non sto facendo niente Siamo in due Ma quando lo dico io nessuno mi ascolta Bea però No ragazzi Ragazzi non per dire ma L'armatura che abbiamo adesso nuova Grazie alla sconfitta del dog si chiama God Slayer Armor L'armatura distruttrice di dei Allora siamo in quella fase del gioco Come si può denotare dalle nostre armi Dal nostro equipaggiamento che semplicemente Siamo diventati forti in modo Talmente ignorante che In confronto Hitler era una brava persona Ragazzi lo spirito del Christmas Spirito del Christmas Saluma Stiamo per evocare Un dragone Siete pronti? Via Sto giamare Oh santa la madonna Dov'è? Ecco Iaron Eccolo Oh forco Sei qua Oh Cribbio e Baletel No raga Serio? Eh sì Raga sangue Non lo vedo io sparo a casa No raga 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 anche lui ci ci fa l'arena delimitata E' morto E' morto era raio Morto No ragazzi Sei da solo Sono da solo? Sì No non potete lasciarmi con Iaron così da solo Eh che ci devo fare Aia Sono morti tutti Sono morto Si bea Melinda Melinda Quattro secondi Bea Prego Eccomi Un seconda E' l'agon Marto che ender dragon Giocatevi questo Muore 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 questo fa Lo so Aia C'è la terralina in bocca No vale però non è Eh no sono morto No fase 2 raga fase 2 Come fase 2? Il giallo Eh Inizia ora il vero combattimento No No madonna ragazzi No 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 Ma c'è il moveset C'è il moveset del Duke Fishron Oh Che potenza Madonna ragazzi però è spettacolare Ma è tutto rosso Poi è bello No sono morto come un trittapasta Beh assi da sola No 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 Ci sono io Ci sono io Ci sono io Oh mio dio santissimo No raga è impossibile Oddio Madonna mi fa cagare addosso ogni volta No mi si è trasportato in gola Mi ha mangiato il tronco No No Morto No raga l'abbiamo persa No 10% Ma da dove spawn Cioè da dove è Da in mezzo Da qua Ma da per terra No Ormai è spawnato Cosa ti fai ste domande Oh cavolo No No Avevo schivato tutto come un Heisenberg Mi cazzo naso Raga quasi fase 2 Manca la Dai Dai Ecco Eh sono morto Blanco swanshot Blanco swanshot Blanco smorto Morto Sono grato di essere qui E poter combattere Il drago fenice più figo del mondo Sono morto io Perché parlo Hai leccato le palle No ragazzi È qualcosa di Indecente Mi ha fatto Tutti Eh guarda Sì ma vale Vale sai Bella calda Sono morto 710 di tanto No No ragazzi Mi viene da piangere No 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 morto Sono morto Tutti mori No No ragazzi No 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 3 2 6 Non si fanno così le cose Unexpected No 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 non posso spawnare morto sempre non posso non posso Sta pure piovendo ragazzi quanto è poetico dio 5% Da morire guarda Eccomi No Sono morto di nuovo No vale no 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 Raga 3% Non è possibile Oh raga Mori te adesso vi pio Ragazzi per favore per favore per favore muori Viano muori Viano muori Viano Ti regalo le uova di pasqua E quali c'è anche a me No sono morto Blanco ti prego Lo da solo Blanco ti prego 2 1 Sono morto No Non è no Ho salvato L'ho salvata L'ho salvata L'ho sconfitto Ah da solo Ah è vero si può usare la Murasama Perché abbiamo sconfitto Yaron Oh mio dio No ma la Murasama la voglio anch'io scusate Non si può mi dispiace Sono una copia per mondo Cosa ne pensi della Murasama? Bellina Bellina Ma io ti trito le ossa Io ho un King Slime Secondo me E all'altezza perfetta Per testare questa Murasama Scherzi a parte Allora io esco fuori dal personaggio del video adesso A me sta bene tutto Ma io ho veramente Veramente paura Degli Exomec Ok Ah 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 C'è C'è